Ricordati di cliccare su Mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Per la giornata di domani, mercoledì 16 novembre, la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo gialla per rischio idraulico, idrogeologico e temporali. Sono 11 le regioni interessate, secondo il bollettino di criticità, pubblicato sul sito ufficiale. Dando uno sguardo al sito ufficiale della Protezione Civile, scopriamo che è stata emessa un'allerta gialla per le seguenti regioni. Calabria, Sicilia, Umbria, Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Toscana e Sardegna. Nello specifico al mattino il nord godrà di un clima più soleggiato con precipitazioni brevi sul Friuli Venezia Giulia. Una perturbazione colpirà con piogge battenti e locali temporali Toscana, Lazio, Umbria e Sardegna. Al sud, invece, saranno attese precipitazioni sulla Campania, dove si registreranno temporali.